sicuri e più veloce al mondo, quindi noi ci occupiamo di cyber security legata alla sicurezza sulla navigazione web che si basa sul protocollo DNS che è il protocollo più democratico e più utilizzato. Dico democratico perché tutti dall'IoT ai frigoriferi, ai computer, ai cellulari, alle lavatrici, ai router ed anche Microsoft che utilizziamo oggi il DNS per risolvere. Siamo un'azienda globale, quindi operiamo in più di 150 paesi nel mondo, però siamo ubicati in Italia e esattamente nella città di Cesena, sebbene abbiamo degli uffici sia a Londra che a Bruxelles per la parte di sviluppo e anche commerciale estero. Disponiamo di una rete Anycast, una rete globale, quindi siamo comunque in grado di fornire i servizi con altissima ridondanza e con una garanzia molto importante di sicurezza. Siamo presenti un po' in tutti i punti, in tutti i cosiddetti Internet Exchanges strategici del mondo. Siamo ovviamente made for Microtech, possiamo dirlo forte, siamo l'unico filtro DNS progettato per essere compatibile con qualunque versione di routerboard e anche di iOS, quindi siamo stati proprio bollati, certificati made for Microtech. Perché oggi è importante avere un filtro DNS? Per pochi motivi. Dice Gartner i mercati verticali più colpiti dai cybercriminali nel 23-24 sono stati l'educational, pubblica amministrazione e anche le piccole e medie imprese, quindi praticamente tutti. Dall'osservatorio che abbiamo noi in Fresh Start, circa la metà dei 6 miliardi di siti che abbiamo bloccato con il nostro filtro conteneva almeno una minaccia e dei siti visitati, circa un sito su 50, sembra poco, ma se pensate in scala globale è comunque moltissimo, si è rivelata rischio. Quali rischi? Le botnet sono oggi i rischi più importanti, quindi quali comunque dobbiamo avere a che fare in un momento e anche in un lasso di tempo dove i rischi cyber sono purtroppo e in aumento importante. I malware, attività malevoli, il phishing e anche i trojan. In misura minore poi abbiamo tutta una serie di altri vettori d'attacco come gli Oax, come gli attacchi Zero Day e ce ne sono poi tanti altri. Per riassumere, facciamo presto. Le minacce arrivano praticamente dappertutto. Noi guardiamo la Threat Map di Flash Start, condivido così vediamo dati che sono in tempo reale. Chiedo Alessandro se vedi lo schermo condiviso correttamente. Buonissimo, sì sì. Queste sono le minacce che in questo preciso momento stiamo bloccando. Sotto vediamo l'IP, le categorie e anche le country da dove provengono gli attacchi e se andiamo col mouse, anche voi potreste farlo se digitate stratmap.fresta.com avete l'immagine che io vedo, se andiamo col mouse sopra le varie country vediamo quanti malware abbiamo rilevato nelle ultime 24 ore. Gli Stati Uniti e Messico, Brasile, Russia, Cina e Australia. C'è anche l'Italia, chiaramente in misura minore, meno persone, meno ICT e meno malware. Quindi le minacce sono globali. Con gli Stati Uniti, perché insomma c'è un ammasso digitale che non è da poco, l'Olanda con i suoi X mila server, X milioni di dati che girano su M6 che è uno degli hub più importanti d'Europa, così come la Cina e la Russia, gli attacchi ci sono sempre. Per chi non ha visto Flash Start, ve lo mostro in tre minuti, mi sono clessidrato Alessandro, quindi metto da, eh sì, era fatto alla vecchia maniera per avere qualcosa di vintage. Mi sono clessidrato tre minuti per spiegarvi quella di Flash Start. Quindi Flash Start è un filtro DNS che si sposa con qualunque tipo di router, di firewall, di rete, di server. Può essere messo semplicemente come forwarder sui server di dominio di Microsoft, come su Microtik, su Biquity, su Cisco, ma anche sull'end point, quindi sui computer con i quali lavoriamo da casa, con i cellulari, può essere messo praticamente dappertutto. Si configura in modo molto facile, è un DNS sicuro. Con l'interfaccia noi possiamo gestire tutti i nostri clienti, quindi possiamo lavorare in ottica multi-tenant e quando io seleziono il mio cliente, in questo caso Company Biz, nella home page vedo qualche dato di repilogo interessante, le minacce rilevate, le richieste bloccate, i siti non esistenti e le richieste di annesse totali. Poi sotto posso vedere delle preview, delle cosiddette snippet di report. Per esempio abbiamo le categorie bloccate, le categorie consentite, i malware bloccati, qui abbiamo i singoli siti malevoli che sono stati bloccati, la torta con le statistiche le applicazioni più consentite e anche le richieste per ora. Poi nel footer abbiamo lo stato e gli IP v4 e v6 della rete Anycast. Se andiamo invece sui report, qui vediamo lo spaccato e noi collezioniamo fino agli ultimi sei mesi di traffico, per esempio adesso io sto interrogando da oggi a oggi quali sono i siti bloccati per categorie, attività malevoli, gli hardware, il phishing, i servizi online e così via. Posso anche spuntare la categoria poi per vedere in dettaglio nel singolo, sì, nella singola categoria, nel singolo agglomerato quali siti ho. Se schiaccio sul phishing però e vedrò i siti che sono stati bollati, battezzati come phishing. Posso controllare anche i siti non pericolosi, i siti buoni della mia rete e vedo che in primis, che in prima comunque battuta abbiamo i CDN. Perché i CDN? Perché semplicemente questo oggi content delivery network sono comunque tra i siti utilizzati a livello globale, posso anche qui spuntare e posso vedere comunque il traffico. Posso vedere che è molto importante quali tipologie di attacco abbiamo bloccato, attività malevoli, gli hardware, il phishing ed altri phishing, queste sono liste che provengono dalla community. Possiamo anche vedere per esempio anche il traffico geolocalizzato, quindi vedere in quali paesi, faccio il traffico consentito, per paese andiamo a navigare, Stati Uniti, va bene, Cina, e poi abbiamo dei dati che sono verso la Russia, questi possono essere potenzialmente pericolosi, così come dati verso per esempio Qatar, verso Maurizio, cioè verso comunque paesi che hanno un basso tasso di legislazione e hanno anche poi conseguenze importanti a livello di hacker. Dalla scheda protezione qui ottengo tutto il mio centro di controllo, quindi posso settare che tipo, che livello di protezione voglio. La prima parte fondamentale abbiamo proprio stampato in alto, per primo è la parte di threat protection, qui possiamo, questa è la categoria principale, possiamo selezionare quali minacce vogliamo bloccare e quali minacce invece non vogliamo che il filtro agisca. E noi consigliamo chiaramente di bloccarle tutte perché parliamo comunque di malware, quindi abbiamo liste che sono specifiche per questa protezione. Sotto seguono altre liste, come la lista, come le threat intel che fornisce poi la nostra community globale, quindi Nuova Zelanda e Vietnam e tanti altri contributors che ci aiutano. E sotto abbiamo i domini di nuova generazione, i blocchi per i proxy, per i bypass, defraudio. Poi c'è la parte di content filter che se siete dell'internet service provider oppure se vendete all'internet service provider sapete dallo scorso novembre quanto è importante mettere una sorta di parental control di legge, perché oggi la legge richiede all'internet service provider che lavorano con le famiglie ma anche richiede alle scuole che offrono connettività a minori e richiede di bloccare certe categorie specifiche che sono gli abusi sui minori, l'alcol, sono le droghe, siti di contenuti per adulti, la pornografia, l'odio e così via. Quindi c'è anche la parte di parental control. L'application blocker che è un po' l'ultima feature che abbiamo sviluppato l'anno scorso e che è quella più utilizzata ci permette di bloccare in modo granulare sempre su base DNS le applicazioni per tipologia. Per esempio io voglio bloccare Tinder, voglio bloccare Match ma anche voglio bloccare per esempio Dropbox oppure voglio bloccare certi social network per esempio Brial, Facebook, Instagram ma lasciare per esempio attivo LinkedIn lo posso fare direttamente con il controllo granulare che l'application controlla. Da non dimenticare il blocco delle VPN c'è molto utile perché se gli utenti installano NordVPN che è quella forse più conosciuta, con questo è molto facile, si dice circunnavigare, cioè dribblare e le protezioni. Col filtro sulle VPN noi andiamo a bloccare VPN e di conseguenza blocchiamo le persone che vogliono aggirare il nostro filtro. Poi c'è la parte di blocco per IP, qui possiamo bloccare tutti i siti, tutti gli URL che vengono risolti su server che sono bollati su indirizzi più malevoli, posso attivarlo oppure no, qui c'è anche il filtro per i motori di ricerca, quindi togliamo i risultati per esempio pornografici, violenti, indesiderati dagli stessi motori, quindi togliamo proprio le entries e gli items che vediamo nel motore e poi sotto abbiamo la parte di job blocking con la possibilità di bloccare la risoluzione DNS verso paesi che non consideriamo sicuri. In questo momento la Russia non è considerata non solo da me e Alessandro ma dai analisti di mezzo mondo, è considerata un paese che è molto poco sicuro dal punto di vista internet. Poi brevemente qui vediamo come configurare le reti con IP statico, dinamico, addirittura c'è anche DOH oppure DOT per gli utenti che vogliono sfruttare le nuove tecnologie, si integra con Active Directory, quindi se avete server con Microsoft potete stabilire connessioni granulari e dare diversi privilegi, per esempio alla direzione diamo la possibilità di andare nei siti di incontri, perché no, e invece gli impiegati che devono produrre togliamo questa possibilità mi sembrano altamente democratica come scelta. E poi abbiamo la parte, sto scherzando, degli endpoint remoti, qui possiamo scaricare l'applicazione per Windows, Mac, iOS, Chrome OS e Android per gli utenti invece che escono dalla rete. Voi sapete che le minacce principali purtroppo avvengono quando siamo fuori rete, perché? Perché fuori rete c'è meno controllo, perché magari da casa lavoriamo con il computer che usa anche il figlio per fare gaming, perché ci sono diverse implicazioni, perché lavoriamo dagli hotel, da reti pubbliche, quindi gli utenti mobile e roaming rappresentano una minaccia importante perché poi con quel device, con quell'apparato vengono in azienda e oppure ancora peggio si collegano in VPN, quindi è comunque necessario proteggere gli utenti nella loro centralità, quindi se che sono in azienda che fuori dall'azienda. Con MicroTIC, come ho detto poc'anzi, siamo direi sposati, c'è un legame da anni che è molto importante e quest'oggi con Alessandro Campanella vediamo questo lab che ha fatto, che ha realizzato, con comunque con questa integrazione che a mio avviso è molto forte, molto importante e che ci consente appunto di chiamare le piaglie di Flestart e poi cercare di bloccare quello che arriva chiaramente a livello di Routing MicroTIC. Ti lascio la parola Alessandro, quando finisce Alessandro c'è anche lo spazio per le domande per tutti, intanto ne approfitto per mettere alcuni link come la pagina di Alessandro, come il profilo LinkedIn di Alessandro, le trial di Flestart e anche la richiesta presti, così ci conoscete. Grazie Alessandro, tocca a te. Benissimo, eccomi qua.